Sarebbero 40 le persone in isolamento in tutta Italia dopo il focolaio da Covid-19 scoppiato dopo un campeggio estivo organizzato in un centro vacanza nella zona di Ippocampo. Contagiati numerosi ragazzi tra i 16 e i 19 anni che hanno partecipato al campo estivo e che risiedono soprattutto in Lombardia e Campania. I ragazzi facevano parte di una comunitiva composta complessivamente da 24 adolescenti. Nessuno era stato vaccinato. Sono 6 sottoposti a tampone circa 50 persone tra dipendenti e collaboratori saltuari della struttura turistica. Di queste una sola risultata positiva, subito isolata insieme alla famiglia. Si tratta di una persona che è saltuariamente frequente alla struttura per dei lavori ma che proprio per la natura della sua attività lavorativa non sarebbe venuto in contatto con i ragazzi. Tutti gli altri dipendenti sono risultati negativi. Sottoposti a tamponi inoltre tutti i ragazzi pugliesi che hanno partecipato alla vacanza, una ventina in tutto. Di questi è positiva al Covid una sola ragazza residente in un comune della provincia di Foggia. Pauci sintomatica è stata sottoposta all'isolamento. I genitori sono risultati negativi. Il servizio di igiene ha disposto intanto l'isolamento per tutti i suoi contatti diretti. Sottoposti a tampone anche i ragazzi giunti la settimana successiva nella struttura turistica anche se non avevano avuto contatto con i ragazzi della precedente vacanza. Sono tutti risultati negativi. Ad oggi nell'ambito di attività di tracciamento collegata a questo cluster sono stati effettuati in tutta Italia circa 400 tamponi. Al momento sono 34 i ragazzi risultati positivi.